Eccoci tornai su Ark, allora per quanto riguarda oggi, dopo circa mezz'ora a cercare una cave che sembra semplice ma trovare le cave su sta mappa devo dire che è abbastanza complicato infatti Se magari c'è stato giocato pure voi a sta mappa qui e trovate delle cave in giro dove ci sono gli artefatti, magari lasciatemi scritto nei commenti le coordinate dell'entrata così magari la possiamo anche andare a provare pure noi Allora, per il momento, tra l'altro la cave l'ho trovata, ci sono le bestie dentro ma non lo so se c'è l'artefatto quindi speriamo bene A parte questo abbiamo due vetti di spino che vorrei andare subito subito a schiudere come prima cosa, tipo qua sopra che abbiamo i condizionatori in teoria 4 abbassano o almeno spero Allora il piano è, li facciamo schiudere qua sopra e poi li portiamo giù con la sferetta, tra l'altro mi avete detto nei commenti che si è tipo C'ho una sferetta, facciamo tipo così, in mano, è tipo ora che si schiude questo qui lo facciamo entrare nella sferetta io premendo R ma dovrebbe switch A in una sfera vuota Sempre se ho capito bene Ed è un grande sì Allora, vediamo un attimino, per favore pia le statistiche buone, 214 Invece questo qui 211, va bene Allora, vediamo un attimo 37 livelli in danno, 25 in vita Questo qui invece, stessa cosa Vabbè Allora, così Poi premo R Non mi fa niente con R In realtà c'è scritto effettivamente che con la R dovrebbe switchare Però io premendo non lo fa Va a capire Non lo so Onesto Allora, per il momento vi facciamo un attimo uscire qua fuori Ultimamente si glitcha tutto ed è un casino Allora, è uno E due Per quanto riguarda la cave, ovviamente direi che ci portiamo nel draghetto spinoso Visto che lui con gli aculei fa veramente un casino da danno Se mettiamo anche un livellino, non lo so Vita Allora, torna qui C'è qualcosa qui L'essenza magari ce le portiamo E poi Per quanto riguarda il resto Avevo pigliato pure un mywing Ora va a te ricordate che l'ho lasciato E' qua, fantastico Allora Ci mettiamo il draghetto spinoso qui Ci sono le statistiche Giocatore singolo Scusate Le impostazioni quindi crescono anche più velocemente Allora Che ci serve più? Un po' di carne Potenzialmente Speriamo che l'ho lasciata a cuoce Ditemi di sì Ah poi alla fine qui ci ho messo il lettino Poi Però voglio mettere quello della mod Allora Ecco qui la carne Questa qui metà la lascio a cuoce Quasi chiude Ci ne andiamo giù Senza volare dalle scale magari Mi dimentico qualcosa? Guarda Io Te porterei anche La verità Almeno Fai un po' di luce Non si sa mai Un po' torna utile Leone marsupiale No Rischia passivo Per favore Che qua ha fine mano Allora Per quanto riguarda la cave Ce ne andiamo Qua davanti Io spero di essermi ricordato tutto Perché sono veramente Un po' un disastro Un casino di NPC qua sotto Ma tipo un T-Rex De qualche elemento particolare Non lo so No eh Un basilisco Qualcosa di incredibile No eh Infatti volevo mettere Tipo anche Arc Additional Creator No? Almeno può dare Un po' Da varietà In giro per la mappa Livello 25 Allora 91 46 Mi sembra 91 46 Sto sbagliando Ordinato Come sembra Allora Allora Con calma Visto che in un punto del cavolo Ce l'ho lasciato Guarda ma che cavolo è stato Cioè ma seriamente Ma Cioè ma povera stellina Guardate quanta vita Gli è rimasto Cioè ma seriamente Io non ho parole Cioè veramente Cioè non lo so È arrivata Una botta Da quelle Stratosferiche Tipo Fa capire Che cavolo era No veramente assurdo All'altro lì Non lo so Che sto a vedere C'è tipo un cavallo Rincorso Da tiri Terrorbeard Qualsiasi cosa Tipo Allora Dovrebbe essere Tipo da ste parti 91 Ce siamo 46 Non ci siamo Ma è tipo Là sotto Fantastico Le torce Ma sai che quello lì Ci ha dato Lo schiaffo Incredibile Ma c'ha line bot Cioè come faccio A giocare contro Un golemmo Con line bot Scusatemi No veramente assurdo Ma che cavolo Comunque In sintesi Quel Mywing È durato Praticamente Un cavolo Ma fa piacere Sempre episodi Molto Tranquilli What? Ma noi c'avevamo Un altro Mywing Scusa Ma tu non eri morto C'è il senso Sono contento Che sei vivo Ma Vabbè Io ho evitato Farmi domande Quello al 205 Non c'era molto No Ma se ne chiedo Un po' di cibo Sì Ma io non ci posso Pensare Cioè veramente Ci mancava Il golem Con line bot Che po' Di tutti i posti Dove poteva Spawnare Quell'aggeggio Proprio là davanti Cioè Vabbè C'è una finta Di nulla Allontaniamoci Da qua Che ci sono Altri due Ma veramente Assurdo Che poi Quanto cavolo De danno Faceva Cioè Parlamone Un attimo Devo parlare Per favore Fatti fatti tu Ench rompe le scatole Ovviamente La laggata pazzesca All'entrata Da cave È tradizione C'è niente Da fare Buonasera Diciamo che con lui È abbastanza tranquilla La situazione Anche perché Le altre pleure Non ci dovrebbero Dà più Da tanto Fastidio No eh Con calma Ah il cane Bulbo Era sopravvissuto Cavolo Ma che cavolo Ma sta a fare Cosa strana Sto cosa Che cavolo Di livello 6 Ma pure Glitchato Non ci credo Ma Ho messo da Più in giro Era tipo Il ragno Più forte Che abbia mai visto Ma che cavolo Questa diventa Sempre Tutto Molto più strano Cioè Più se va avanti Più le cose Diventano strane Io nel senso Tutto tranquillo Vabbè un ragnetto Che quando ha storto Ma invece Guardate la vita De sto povero Coso Guarda ciò Veramente Non si sa Come ha fatto A sopravvivere Qua C'è tutta Un'aria Molto Prana Io devo scendere Da sotto Oh cavolo Vabbè Che può andare storto Tra tutto E tutto Tutto Ovviamente Vabbè Ma qua Quanto continua Sto cosa Con tutta La buona volontà Ma l'ossigeno È quello che è Qua si può usci Buonasera Urca Quanta roba Wow Boss cave Cosa Aspetta un attimo Parlamone Boss cave Boss cave Targettare Is a boss cave Io veramente Vorrei vedere Le parole Giuro Quindi ora Non me lo fa Spawno Nemmeno qua Giusto Un attimo Possiamo Facessi Ma scusate Sempre più confuso Qua invece Qua si La no Qual è il senso Di tutto ciò Quindi ora Praticamente Tocca Scende Con lui Incroci Incrociare Le dita Dai che ce la fai Su No Io a piedi lì Non ci scendo Ma non ci pensavo Proprio Ehm Si accettano suggerimenti Ma secondo voi No La cave Come la dovrei fa Più di altro perché Veramente Là sotto C'è da tutto Ora O ci pigliamo Tipo un lupo Ce lo potenziamo Diciamo Abbastanza E altrimenti Non lo so Perché questo qua Non ce la fa Scende Mannaccia E non ce la fa Vabbè Comunque Le coordinate Della cave Sono 91 46 Anche se Comunque È in alto A sinistra Bene o male Ho sempre Il cannocchiale Attivo Quindi le coordinate Dove siamo Si vedono E quindi Niente Non ci possiamo Entrare Che cavolo è qui Niente De bello Allora Ricapitolando A parte Magari Sopravvive Mannaccia La miseria No eh Lasciateci Lasciateci In pace No veramente Assurdo Quei cavolo De golem Fanno Un danno Che Non lo so Imbarazzante Il coccodrillo Sembrava Tipo Stranissimo Non so Perché In ogni caso Ci serve Un lupo Perché Pure il terror Bird No Sì Ok Però Non fa Ovviamente Un cavolo De danno C'è nel senso Va Capito Fortuna che comunque Si dino qua Desta mod Si rigenerano Abbastanza Velocemente Che altrimenti Era veramente Un disastro Che altrimenti Che si può Pia Allora Come prima cosa Andiamo a pia Un attimo Un po' D'ossidio Così ci facciamo Tipo L'aggeggio Per spalare Le reti No Che non mi viene Ma che cavolo Mi stai a fa Mannaggia Non lo so Mi stavo a fa Cosa strana Quello Allora Ossidiana Ossidiana Qua non c'è la faccia Prende quota Qua c'è l'ossidiana Non ce ne serve Tantissimo Però Poi ci servirebbe Polimero organico Tipo Spero che ce ne abbiamo Un pochettino In base Perché altrimenti I pinguini I pinguini Vatta Ricorda Dove erano I pinguini Mi sembra Tipo a bordo Map Lo potrei sbagliare Però mi sembra Che era lì Che cavolo Che cavolo era Andrasarkus Pure Nii Poi ci sono cose Però ci sono pure i golem Come vorrei evitare Ormai c'è il trauma Di quei cose E qui ce ne sono altri C'è qualcosa di bello qui Arco Già sai Senza che cavarlo Voglio vedere un attimo Se ci abbiamo Polimero organico Invece no No comunque Quei golem Non lo so C'è imbarazzante Cioè fanno veramente Troppo danno Con tutta Buona volontà Di questo universo Nel senso Ma troppo Cioè che cavolo Pelle e fibra Vabbè Si può fare D'altro Se è il terror Bird elettrico Più scarso Che abbiamo mai visto Cioè 84 danno È veramente nulla Che ho visto almeno Un'abilità speciale Tipo ma niente Cioè livelli Quattro livelli Cioè veramente Non ci posso Credo Ma pensavo Che mi voleva Attaccare 150 Eh però C'è il Varit Allora La carne Si butta La pelle Si prende Il falcetto Ce l'abbiamo C'è un attimo Una sella Vabbè che a questo punto Ce la possiamo fare Anche nell'altra base Voglio controllare Un attimo Se abbiamo polimero Comunque è sempre bellissimo Che ogni episodio Se non va Non dico tutto storto Ma quasi tutto storto C'è assurdo Allora Dicevamo Il lanciareti Tipo Ecco De qui Polimero Vediamo Quindi il polimero Ce l'abbiamo Eh Invece Il colpo Tipo Scrivo Net Ce lo trovo Ce lo fai Tipo 10 7 Guarda 7 Già Mi fai contento Il gioco Averito Perché poi Come è partito Sto episodio Già così Che me ne dai 7 A essere sincero Non è poco Allora Dicevamo Teleport E ci andiamo All'astremote location Così in teoria Ci riporta Vicino a quello 150 Però se la Ma l'ho dimenticata Capolo Ehm Babbo Purtroppo Se ogni volta Non mi dimentico qualcosa Non c'è niente da fare Allora E' uno E' due Forse Bas Ma che cavolo Avete mai visto Un diplodoco Tipo Che va Attacca Io no Che cavolo Di livello Sei Pure 145 Vieni qui Bel diplo Vieni Avvicinati No comunque Quelli d'acqua Con questo qui Li potevano Domestichare Non dico Tranquillamente Ma quasi A parte che Questo c'è un casino Di torporo Però comunque Non ci interessava L'essenza Però Non si sa mai Meglio Ottenerle Allora Torna Nella Pokéball Rendiamo Lennissimo Maiwing Perché Purtroppo Chiaramente Non c'è Verso Da farle Sopravvive Un'altra Pokéball Per noi Ole Spero che Almeno Questo Sopravvive Non dico Tanto Ma almeno A tre episodi Però Come è partito Il tutto Poco ci credo Perché In realtà Io credo Che Sopravvive In volo Su la mappa Con quei cosi Ci vorrebbe Qualc'altro Dino Però Insomma Un attimino Più resistente Mettiamola così Il problema È che Comunque Volateli Su sta mappa C'è solo Quello Quindi O quello O quello Stop Sì Sella al Maiwing Giusto Maiwing Maiwing Ecco Qui Faccio Una Sella Quasi Quasi Aggiungo La mod Dell'upgrade Station Almeno Può potenziare Selle Perché Veramente Non c'è Verso Da Gira È proprio Dal nulla Arrivederci Grazie Va a Fini Male Poi Un'altra Cosa Che volevo Fare Visto Che a un certo Punto Ci servirebbe Anche Un'anni Ci facciamo Un attimo Le forbici E in teoria Arriviamo A 30 20 Così E con la barba Altri 10 Questo qui Si carica Se sa Mai Può tornare Utile E ora Praticamente Forse E ripeto Forse Possiamo Anche Andare Alla Ricerca Di un lupo Due Sarebbe Meglio Incero Però Vediamo Un attimo Che si può Fare Altre Frecce Non se ne Possono Favere Freccia Sedativa Ci manca Tutto Vabbè Cerchiamo Da farcelo Bastà In teoria Un buon Lupo Non so Proprio Sicuro Al 100% Che ce la fa Sopravvivere Ma Insomma La speranza È quella Da queste parti Qui Lupi Niente Tocca Andà Un altro Po' Più Sulla Montagna Credo Quella Tigre Lì Quella È normale A noi Ovviamente Ce ne Interessa Una Della Mod Che Ovviamente Fa più Danne Più Forte Eccetera Eccetera Conviene No Po' Proprio Raptor Sulla Neve Già Ho visto Golem Con la Scritta No Purtroppo Sono ovunque Quei cose Non è che Dite Vabbè Sono rari One shot Però almeno Se ne incontra Uno Ogni Tanto Mannaggia Che Cavolo Amico mio Guarda Aumentata la vita Che qua Va a finire Ma Ora ho finito Di dirlo Spiegate Come voi Uno Come fare Registro Un episodio Se tipo Ogni volta Che vola Va a finire Così No Ditemelo Come si fa Non ce la si fa Che verso Mannaggia Tipo Ci sono capelli Da qualche parte Qui Ecco Stasella D'optero Con 101 D'armatura Bellissima Però il problema Che non ci sono Optero Su sta mappa Quindi Secondo voi Che ce ne facciamo Secondo me Niente Narcotico Ci può tornare Utile No Comunque Veramente Assurdo Sto quasi A perdere Speranza Qua c'è Altro Ossidiana Ce la portiamo Dietro Cioè ora Per l'ennesima Volta Toccando Appianalto Mywing Cioè Non lo so Prendo l'idea È veramente Un loop Infernale A questo punto Quasi quasi Il primo Mywing Che trovo Indipendentemente Dal livello Lo piglio E basta Perché Insomma Non c'è Nemmeno Senso Pigliare Nuno Di livello Alto Perché Tanto Come si è Visto Va a finire Decisamente Male Altro Quei Raptor Li 145 L'ho letto 45 La vedo Il problema Che il raptor Non lo so Lo vedo Un po Ragilino Mywing Fire 150 Si Va bene E poi Il golem La guarda Come si è Permesso Non ti permette Mai più Però Però Ne apresce In amicizia Quasi quasi C'è nel senso Sta qui Giusto per Io Io però Volevo Quell'aggeggio Lì Perché Sto Coso Che è Scomparso Mi ha Attaccato Serio Cioè ma come Tu permetti Ma sei un'anatra Dove Si è mai vista Un'anatra Che attacca Ma che Cavo Vabbè 20 di polimero Mamma mia Si è sprecato Allora Speretta Alla mano Cioè comunque Va bene il raptor Però Insomma Diciamo che ci vuole Qualcosina Di un po' più Fort Per forza Livello 60 Quello lì Sempre 60 60 145 Fire Ma io ci riprovo Questo qui 145 Fire Insomma Spero pure Che abbassano Le frecce A vero Allora Ecco a te Già che ci sono Avevo visto Del mir Lo so Sognato No guarda Sta tranquillo Pure Serio C'è altro Che vuole Rompere Le scatole Già la faccio Nemmeno Colpirle Quanto è triste Sta cosa Do donatura Però che c'è Niente De bello What Allora Tu Torni Alla Sferetta Come prima Cosa Come seconda Cosa Andiamo a fare Per l'ennesima Volta La sella Ormai Sta diventando Non lo so Sella Simulator Allucinante Mi è venuta Un'idea Veramente Non lo so Strano Ma tipo Un esercito De lontre Per entrare In quella Cave No Troppo Strano Allora Fischio Passivo Uh Non si sa Mai Che qua Appadanni Un attimo Seda Del Mywing Faccio Veramente L'ultimo Tentativo Poi M'arrendo Nel senso C'è A quel punto Per forza Mod Upgrade Station E via Perché Ma sa Che sta Mod Qui Su sta Mappa Quelli Li Li Fa Overspawn Perché Sennò Non c'ha Senso Non capisco Perché Metterne Così Tanti Ed One Shot A prescinto Questo C'ha pure Meno De Non riesci a immaginare Quante Si vede più Un cavolo C'ha la nebbia Non riesci a immaginare Quante possibilità C'ha di sopravvivere Tipo zero O meno Allora Vediamo un attimino Che purtroppo Pur la mantide No Non è che proprio La convince Più di tanto A parte che la mantide In acqua Lì come ce la faccio passare Ecco qua Un altro golem Fortunatamente È normale Questo Non è normale Quello lì che Che entro Sa No però Veramente C'è Non sono po' C'è C'è C'ha sparato Dall'altro L'universo Dalla distanza Da quel letto 147.000 metri Allora direi che per il momento Ci fermiamo qui Appena finito l'episodio Vado a scaricare La mod del loop grid station Cerchiamo di fare Nel prossimo episodio La stella potenza Dal mywing Così almeno Forse c'è verso Di girare in map Perché è veramente Una cosa allucinante Quindi nulla Spero che comunque L'episodio Vi sia piaciuto Anche se Qualsiasi cosa Potesse andare storta E' andato tutto storto Quindi nulla Lasciate un bel like E speriamo che nel prossimo episodio Vada leggermente meglio Ciao 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 ciao